No Smog confermato il livello arancione almeno fino a venerdì 21 gennaio, quando l'ARPAV pubblicherà il nuovo bollettino sui livelli di allerta PM10 nel territorio comunale di Vicenza. Continuerà quindi lo stop dalle 8.30 alle 18.30 in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, esteso anche ai veicoli privati a benzina Euro 2 e diesel fino a Euro 4 e 5. Devo dire che gennaio e febbraio sono i due mesi neri per la città di Vicenza, lo sappiamo, e quindi torna il blocco a quelli che sono in particolare gli Euro diesel 4 e 5. E in particolare un piccolo invito che mi permetto fare, perché dobbiamo tutti cercare di migliorare l'aria che respiriamo tutti insieme, spegnete i motori quando le macchine sono in attesa ai semafori o in sosta, perché è una pessima abitudine che continuo a vedere molto diffusa. Non solo inquinamento dell'aria, ma anche attenzione a quello acustico, che sarà il tema protagonista della prima domenica ecologica del 2022. Infatti domenica 23 gennaio ci sarà il blocco del traffico all'interno delle mura, dalle 9 alle 18, che riguarderà tutti i veicoli a motore ad esclusione di quelli elettrici. E il tema dell'inquinamento acustico verrà sviluppato nell'occasione con laboratori didattici, itinerari teatrali, supernotazione e l'attività di pulizia del quartiere San Pio X con plastic free. La domenica ecologica con lo stesso tema si svolgerà contemporaneamente anche nei comuni di Creazzo, Sovizio e Caldogno.